E' stata sottoscritta al termine di una lunga riunione durata fino a tardanotte un'ipotesi di protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli, l'ANM, e i sindacati sulla risoluzione della vertenza che riguarda l'azienda di trasporti del Comune, a rischio di messa in liquidazione. L'ipotesi di fumata bianca è arrivata al termine del sesto incontro al quale hanno partecipato il capo di gabinetto Attila Uricchio, gli assessori alle infrastrutture e al trasporto Mario Calabrese e al lavoro Enrico Panini, l'amministratore unico di ANM Ciro Maione e le organizzazioni sindacali, che valuteranno ora singolarmente l'ipotesi di accordo, riservandosi di comunicarne l'esito entro il 30 ottobre. A spiegare i dettagli dell'incontro, Vincenzio Ezio Lucchese, della sigla USB Trasporti Campania. C'è tutta una serie di dichiarazioni di intenti che restano tali, per cui noi, almeno mi riferisco alla mia sigla sindacale, abbiamo preso le proposte aziendali per sottoporle al giudizio insindacabile dei lavoratori. Quindi il nostro stare dentro alla discussione non significa per forza di cosa avere accettato quel piano che poi non è il piano industriale. Sono le linee guida politiche che si sono dati al Comune e che hanno un po' imposto anche poco democraticamente le organizzazioni sindacali perché il confronto è stato consentito solo su situazioni di scarso interesse. Sulle linee generali non c'è stata la possibilità di poter in alcun modo modificare o interferire con quello che già era stato deciso altrove. Noi ci ritiriamo in buon ordine e ci sottoporremo e sottoporremo soprattutto l'accordo al giudizio insindacabile dei lavoratori perché un sindacato veramente democratico si comporta in questo modo.